Buonasera, sono Francesco Adapaolix dei Flash Cold Apocalypse e questa sera prepareremo degli spaghetti tricolore di Flash Cold Apocalypse con salsa di pomodoro a 260 ml. Accompagneremo questo piatto con dell'ottimo San Giovese Umbro dei Flash Cold Apocalypse Minotauri. Per preparare questo piatto abbiamo bisogno di un metronomo, una casseruola, uno scolapasta, una pentola per la salsa, del sale, dell'olio extravergine d'oliva, pomodori freschi, spaghetti di colore di Flash Cold Apocalypse, prodotto artigianale, prodotto in un laboratorio umbro, carote, serrano, cipolla, del basilico, dell'ottimo San Giovese Umbro di Flash Cold Apocalypse, un rullante, delle bacchette e nel mio caso un pad perché mio figlio dorme. Per prima cosa settiamo il metronomo a 260 dpi. Ora prendiamo la casseruola e la riempiamo d'acqua. La cortiamo sul fuoco, qui così, prendiamo l'acqua. Nel frattempo su questa pentola andremo a preparare la salsa. Diciamo l'olio, i nostri odori, precedentemente triturati e la mettiamo. Inizieremo a tagliare i pomodori per la salsa. Sempre con l'aiuto del nostro metronomo andremo a versare le nostre rondelle di pomodoro, così, e andiamo a iniziare la parte più importante. Oh, acqua bolle. Prendiamo il sale. E aspettiamo un altro minuto. Nel frattempo, i nostri pomodori sono appassiti, prendiamo i nostri spaghetti frigionali. Prendiamo una porzione e li mettiamo in acqua per circa 12-13 minuti. Nel frattempo, vabbè, lo mettiamo. Oh! La nostra pasta è pronta. Spegniamo, svoliamo. Ops. E andremo a mettere in padella. Così, molto bene. Così. Ok, a questo punto spegniamo il nostro amicometro. La nostra pasta è pronta. E noi andiamo ad apparecchiare il nostro rullante. Il nostro vino. Il nostro piatto. Che cos'è questo? Qualcosa che non ho mai visto. Sarà... una diavoleria di internet. Non so. Lo mettiamo via. E invece andiamo a riempire il piatto con questa pasta dei flash gold. tutto il sughetto per bene. Che non è ketchup. Eccolo qui. A questo punto. E ora di. Buon appetito. Buonissima. Questa era la pasta dei flash gold. Spaghetti tricolore al pomodoro a 260 ml di armi. E li abbiamo accompagnati con questo video. San Giovese Gumbro degli flash gold apocalips minotope. Vi ringrazio per l'attenzione. E ci vediamo alla prossima puntata di Impara a cucinare con i flash gold. Il nostro piatto è il nostro piatto è il nostro piatto. A presto. A presto. A presto.